Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La squadra del Teramo ha ripreso gli allenamenti in vista della gara del Bonolis di sabato pomeriggio contro il Ponte d'Era ore 17.30. Guardando la classifica ora si hanno sensazioni più positive. Sono sei punti di vantaggio sulla zona rossa play-out e il Teramo è davvero ad un passo dalla salvezza e provando a vincere sabato contro i Toscani potrebbe aspirare ad un posto nella griglia play-off. E questo sarebbe un risultato importantissimo per una squadra partita solo per salvarsi. Il difensore Pierluigi Pinto in conferenza di inizio settimana fa un'analisi ad ampio raggio del buon momento della squadra e della solidità difensiva. In questi 20 giorni abbiamo fatto delle prestazioni, delle grandi prestazioni di squadra ed è giusto che ci sia entusiasmo. Ora domenica ci aspetta un'altra partita e siamo concentrati solo su quello. Oggi intanto alle 12, udienza davanti al Tribunale federale con l'avvocato Gerardo Spaltro a rappresentare Teramo. Il legale aveva già anticipato circa 15 giorni fa alla nostra emittente, che è stata per prima a diffondere la buona notizia per i sostenitori biancorossi, che il Teramo Calcio non avrebbe rischiato alcuna penalizzazione né in punti né in ammende e il procedimento oggi sarebbe stato dichiarato improcedibile per effetto della modifica delle norme di recente varate dalla FIGC. L'avvocato Spaltro ha già presentato nei 15 giorni dalla modifica della normativa istanza di riesame alla Coaps Commissione Acquisizioni e Partecipazione Societaria per rivalutare la posizione del Teramo e attestare così alla luce della nuova documentazione se ci sono effettivamente i presupposti di onorabilità e sostenibilità finanziaria.